Ok, allora prima di tutto grazie per questa ospitalità, ci siamo trovati benissimo, siamo qui da poche ore in Oman, però devo dire che le premesse di un viaggio spettacolare ci sono tutte. Grazie al nostro amico che ci ha invitato e ci ha rifocillato di prima mattina e speriamo che il viaggio continui così. Io sono Cristina, la ringrazio anch'io e dico che in questo paese io già sto benissimo, cioè da quando sono arrivata, pulito, bello, tutti sorridenti, tanto verde che non mi aspettavo, tutto bianco, bellissimo, è una temperatura meravigliosa, grazie. Anch'io sono molto felice, desideravo venire da tanto, mi sono sorpresa fin da quando ero aereo perché ho visto che c'è moltissima acqua in Oman, uno pensa ai paesi arabi, desertici, no? E poi la cosa più bella è l'ospitalità della gente, che è molto molto friendly, amiche euro. Allora io sono Gabriella, questo viaggio in Oman è stato tanto desiderato, lo progettavo da anni e finalmente sono arrivata. È stato emozionante l'arrivo, ero felice, già l'aeroporto è stupendo, la città, a meno per quello che ho visto è bellissima, la moschea e soprattutto appunto sottolineiamo l'ospitalità e la capacità di interagire con noi turisti di un'altra tra virgolette cultura. Mi piace molto, però vorrei parlare con delle donne, quello sì. Sono Luciana, anch'io sono molto emozionata per questo viaggio, mi piace molto, mi sento già a casa, mi piace questa accoglienza, comincio ad entrare nella cultura di questo popolo così ospitale. Ciao, io sono all'inizio del viaggio, ancora non so niente, solo quello che ho letto nelle guide. Spero che sia ancora tutto così bello. Mi sembra arrivati di sera e quindi abbiamo potuto vedere l'illuminazione della città davvero molto bella e siamo all'inizio del viaggio quindi è presto per fare delle soppe, delle conclusioni, però mi aspetto molto. Grazie.